buonasera saluti ben trovati festività di santa caterina volpicelli buonasera saluti guarda su un altare di chi è buonasera grazie grazie lo diciamo a noi sta scritto già su qua e poi ce lo diciamo fermi sorriso grazie saluti ben trovati a tutti ciao buonasera come stai? come stai? come stai?